benvenuti all'ennesimo gameplay con cane barboso buonasera cane barboso buonasera a tutti voi e missione speciale dobbiamo uccidere hitler pare che sta tirando uno dove? guarda me eh ti ho pure visto il tempo è cercato cazzo ma mi sa che non è perché stavo troppo lontano mi ha sparato la testa è morto ecco l'ammazzati 5 3 c'è il cecchino in alto da prendere questo lo faccio l'altro qua Lore ci sta vedendo ci sta vedendo no ha visto il morto che altro mi prende un cecchino in alto eh tanto andare verso il morto e questo lo vado in giro quando lo fai che io prendo il cecchino dall'alto rumore avvertito hai fatto? si si puoi avanzare tranquillo come si è pagata la bomba? alla 1 è morto uno l'ho fatto fuori appena adesso con la pistola non mi sono cadavre ho visto no però con i suoi si sono allertati aspetta 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 noi gli sparo, farlo vieni qua e gli sparo io con la eh vabbè poso la testa no di cosa stiamo vabbè ok avanziamo che tanto qua sono morti malissimi aspetta 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 un altro ecco stai togliendo tutti io sto andando con la pistola silenziale e ti papapam pure il camion come esplode in fretta lo potenziato guarda che è bolletta non mi ha fatto nulla c'è uno qua davanti ok piena testa oh nooo conferma è vero il fiulio sta arrivando nel certo momento è migliore ma saremo pronti per sufficiente hanno risa la notizia grandi rutti forse il messaggero FUN avrà la risposta a posto grandi rutti mi seguimi a posto hanno bussato? era uno che ha seduto sulla scala ma l'ho arato però si sono allarmati aspetta torno dietro si rossi qua ho fatto un uccisione eccomi chi sta sparando? beh da dietro eccomi chi sta sparando? beh da dietro morto a posto sotto la testa non so come si tra scendiamo qua per mantenere le vostre posizioni un par di mazzo io dico sempre partiamo a fare e non fare casino e poi sempre guerriglia urbana ma vabbè tanta la fine sempre come vedete cioè eccolo che cosa fa? di qua di qua vieni qua ecco basta basta ce n'era uno e l'ho fatto fuori infatti non c'è più casino scendi di qua scendi qua che se che dice? che fa? un po' avrei girato durante la prima guerra a mandare di hach Hitler così fosse arrivato in un reggimento ma non so a chi chiedere ma che minchia di dietro sono ok va andare lì a 47 m e me la sono inculata pure lì questa ho sentito quello che si dice in giro il figlio di Nordafrica non è un'altra che un sossia mmm l'uomo che sta arrivando a Top Brook non è un sossia ottimo quindi dobbiamo andare laggiù per un messaggero bene eccoci ma qua porca Eva cerchiamo di fare silenziosi va bene che tanto succederà col primo massimo secondo poi papapam pipipum è sempre così te lo mando verso di ti allora ne ho già fatto fuori uno ma ce l'ho andato verso di me allora e te l'ho te l'ho tirata apposta un genio proprio un genio del male eh quando arriva gli spari bravo a posto aspetta sta venendo verso di te fai il giro da lato aspetta 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 vai a posto molto male si allora cerchiamo di aspetta contrassegno quei due che stanno eh no aspetta aspetta questo qua ok che sta sopra ci sta uno sopra quello giallo è in tensione un po' tese effettivamente dovrei andare a fa' aspetta 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 ho preso un altro io vado a fa' a sto punto vado a ammazzar qui due le so sopra aspetta aspetta io posso faccio il giro dall'altra parte ok vediamo se si fa di strada l'altro non lo so subito che cazzo è stato armati tutti eh si perchè? eh perchè hai fatto casino su quello ma com'è? aspetta quella cosa silenziale comunque te li ho tirati io adesso eh ok molto gentile grazie muore 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 ma uno l'ho silenziata ma tanto che non l'ho silenziata perché tanto ormai è un altro amore con la granata ma ha fatto fuori con la granata si si ora lo faccio fare io questo con la granata ok fuori fatti ne sta uno ancora dove? eh sta qua dietro aspetta mi manca vedo lo vedi? fatto perfetto dobbiamo andare giù perchè dobbiamo fare sicuramente in direzione da c'è qualcuno ha 29 metri qua questa falliata questa falliata questa falliata tra tutti i passi al mondo e il furo e non può essere direttato abbruch perchè è sparse da lasciare a berlino nessuno si fa questa domanda e così ora dobbiamo preparare un banchetto e trovare i miei pregiati tra l'altro sono quasi certo che la stemmi pazienza se nessun altro ci fa delle domande non le farò neanche io bella tan bella ma che lettere è? allora studiato obiettivo preparativi riusciremo a fare un pezzo silenziale noi abbiamo una tecnica i primi due riusciamo a farli silenziati poi basta poi è finita la spappartellamenta silenziata poi papapam bum 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 ebbè in questo punto di osservazione e qua ci sta il Führer che arriverà la messa adesso prendo questo è intorno ecco il Führer la Calfiura ecco lo mi dico un baffetto ma non è uguale è uguale gran fiore mmm mmm cos'è? medaglia se vedo colpo in testa ma perchè? vuoto lui vuoi sparare tu? Conferma l'identità dell'obiettivo e procedi Allora aspetta, va a me Aspetta Trasegna l'ambiente Ma io però Guarda quanti sono Puro il cazzo di camera qua Non è che fa il contrasegno dell'ambiente Sarebbe H? Boh, infatti Ah, eccolo Papa, è muto Ti crede? Hai perso la voce Ha cazzato pure Ah, va, un po' Fa solo Basta Che fa, se ne va, mu Sarebbe che va a ammazzarlo però Ma no Trenta si fa anni seduto Come? Deve sparare, io No, sto sotto Grande sfragnata Cosa? Chi è? Grande scalp Ho fatto lo scalpo al Führer Ho sbaglio Ho scantellato Lo scalpo questo Sono proprio americani Porca troia Sparare proprio all'aria Oh, ci sanno mille persone lì all'interno Oh Vieni, 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 vieni Rall'arbre Corri, corri, corre, corri, corre, corri, corri, corri Vai via? Via, via, via Via, via, viene Il canno si distrutto Eh, Infatti ho fatto happen qualche canno Il c bel l'ha ritirato Così, quel testo Vuol dire Brutto uccisione però E fu così Così brutta uccisione E fu così che Führer morì Baron? Morto male nella sua gipetta Ma tu Jesper la gipetta si è fermata No no, ha tirato dritto No ma si è fermata per un attimo Ho rallentato Si, ho fatto lo scappo Ucciso l'uomo ritenuto essere il Führer Quindi non è detto che è lui E no, figurati Anche perché lui aveva mille soci Praticamente Bene, anche la caccia a Grey Wolf l'abbiamo fatta Quindi stiamo a posto A porno così Tutto a porno Bene bene, ci mancava questo E abbiamo finito completamente il gioco Abbiamo preso diari di guerra 4 di 10 Non male Bene così Missione a computer Cioè in condizioni pietose Spargato male Spardellato malissimo Spargato male Spargato male